Linee di orientamento, la prima evidentemente è quella del ruolo della farmacia territoriale dentro il riordino territoriale e poi credo che ci sia da appunto sottolineare, ed è la cosa forse più importante che avevo piacere di dirvi, ho già detto in qualche altra occasione alcuni dei presenti, o ce lo siamo detti perché poi è un dialogo, beh, forse la cosa più importante è proprio quella di capire che nella serie di ragioni siamo arrivati al momento di trarre le fila, al momento in cui ciò che abbiamo prodotto, che è prima di noi magari altro che altro prodotto, può arrivare a una sua definizione operativa. Ci arriva in un momento particolare, nel quale evidentemente l'attenzione è fortissima a contenere il più possibile le risorse da destinare anche alla sanità, quando non a limitarle, per assicurare la tenuta complessiva del sistema paese e del suo equilibrio finanziario dentro e fuori dall'Italia stessa. E dunque ci arriviamo in un momento non facile perché noi abbiamo sempre pensato, siamo venuti avanti nel tempo con un'idea secondo cui i cambiamenti costano, le riforme costano, ecco noi siamo nella condizione... Grazie. Grazie.